ciao ragazzi allora ho già fatto questo discorso nelle stories di facebook e di instagram tra l'altro iscrivetevi anche il canale instagram dove pubblico un po di più ma voglio ripeterlo anche appunto per youtube perché vi voglio rendere diciamo partecipi di quello che sta succedendo sul discorso extraprofitti cosa succede come voi sapete ho già parlato diverse volte di questa di questa cosa il governo a febbraio ha fatto un decreto per cui diceva che in questo decreto cosiddetto extraprofitti dovevamo avevamo un prezzo dell'energia fissata 0058 e a seguito di questo arera ha fatto una deliberazione mi sembra la 266 barra 2022 barra e l l l eccetera eccetera che in cui poi concretamente si va a togliere i soldi e a chiedersi indietro i soldi il gse a seguito appunto di questa deliberazione questo è successo la cosa che mi sono incazzato parecchio fatto un po scandalo è che da febbraio fino a luglio i soldi se li è andati quindi c'è andato il pun prezzo unico nazionale che era ben ben superiore rispetto a 0058 è arrivato a essere dieci volte superiore più che dieci volte superiore superati di 060 quindi a un certo punto a ottobre è arrivata una bella letterina del gse che ci chiedeva indietro tutti i soldi da febbraio a luglio agosto ce li ha già scontati loro settembre eccetera stessa cosa cosa è successo che è un bel momento ad esempio a casa mia mi hanno chiesto se quasi 70 mila euro indietro e mi sono parecchio incazzato adesso il primo dicembre il tribunale amministrativo regionale cosiddetto tar della lombardia ha determinato che la delibera rera 266 è sbagliata e va annullata infatti sul sito del gse è sparito la sezione extra profitti e il gse stesso a ottobre che ci aveva già dato aveva già fatto fatturare 0058 per l'energia prodotta per i kilowatt prodotti ci ha chiesto di fare un'ulteriore fatturazione che va a integrare quello 0058 lo porta fino al prezzo unico nazionale di ottobre allora io mi chiedo cosa succederà con agosto settembre e cosa succederà con i soldi che gli ho dato me li danno indietro il gse non si è ancora espresso e comunque ha detto che sospenderà questa delibera cioè non che questa delibera prende atto del fatto che è mancata quindi presumibilmente non lo so ma presumibilmente faranno ricorso al consiglio di stato che credo sia il passaggio successivo dopo il tar in in sede amministrativa vediamo cosa succede questo è molto interessante io mi auguro che il diritto vinca perché anche se siamo in uno stato diciamo del secondo mondo perché non siamo uno stato del terzo mondo ma neanche del primo abbiamo fortunatamente ancora dei pesi dei contrapesi che possono bilanciare le cazzate che fa un governo perché quello che è successo nel 2014 che dopo aver firmato per 20 anni una certa tariffa ci hanno decurtato la tariffa e che ci davano 10 centesimi dell'energia ci hanno detto che dovevamo andare a mercato abbiamo fatto causa una class action e alla fine sostanzialmente quasi letteralmente il tribunale ha detto avete ragione però quello lo stato può fare quel cazzo che vuole questo secondo me non è accettabile in uno stato col con la storia di diritto che ha l'italia e per come vedo io la mia italia questo non è accettabile perché oltre dal punto di vista economico sicuramente nella mia azienda mi ha messo un po in difficoltà nel senso che non lo nascondo non in crisi ma in una certa difficoltà siamo in un momento in cui abbiamo fatto raccolto sto pagando tutti i fornitori chiedermi 70 mila euro danno i 15 giorni di tempo per darli è normale che un pochino ti metta in difficoltà almeno credo che sia normale o quantomeno a me è successo così quello che mi dà veramente fastidio oltre a questo sicuramente i soldi mi danno fastidio non voglio nascondermi dietro un dito ma quello che mi dà più fastidio o comunque altrettanto fastidio è il fatto che prendono fanno fare queste figure di merda all'italia e questo è il motivo per cui anche all'estero ci ridono dietro e non vogliono fare affari con noi perché quando diciamo una cosa non la manteniamo e questo è quello che mi dà più fastidio il discorso se io faccio un contratto a tu puoi anche sbagliare perché può capitare cioè nel senso hai a che fare con una situazione non facili come è successo col covid come è successo adesso con comunque con questa crisi con con la guerra e con quello che ne consegue con l'aumento dei prezzi non dico che sia facile tu puoi anche sbagliare ma se io sbaglio a fare il contratto del mais faccio un contratto a 41 e adesso il mais a 32 lo pago 41 se ho fatto sei mesi o un anno di contratto andrò avanti per un anno a pagarlo 41 non mi mangio la faccia e mi e mi rimangio la parola perché mi conviene perché se fai così io credo che prima di tutto non è etico e numero due alla lunga secondo me non paga chiaro è che quello che succede alla lunga per questi qua che sono lì pro tempo e sono lì per sei mesi a fare il presidente del consiglio un anno un anno e mezzo probabilmente di come l'italia viene vista alla lunga non gliene frega un cazzo ma a me me ne frega a me da fastidio perché io sono italiano sono un patriota e mi dà fastidio che l'italia venga presa per il culo quando quando sono andato a studiare all'estero per un anno quando vado all'estero e comunque intrattengo ancora relazioni con amici che vivono in tutto il mondo l'italia dicono tutti è un paese bellissimo amiamo l'italia l'italia è stupenda ma verresti qua a fare un'attività no 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 neanche se ma neanche se me la regalano l'attività vengo a fare un'attività in italia cioè perché non perché in italia si stia male o perché c'è la mafia perché se è uno stato che è la mafia che è uno stato che fa schifo che dice una cosa oggi e domani se la rimangia a me questa cosa qua sta profondamente sul cazzo cioè scusate lo sfogo ma al di là del fatto che poi mi abbia toccato nel portafoglio mi avrebbe dato fastidio anche se fosse successo in un altro settore perché se tu prendi un impegno è più importante che tu mantenga quell'impegno piuttosto che quei quattro soldi che vai a risparmiare quattro o non quattro non me ne frega niente cioè è troppo più importante quello che è la reputation della nostra nazione rispetto a il fatto che devi imparare il titolo di giornale abbiamo fatto il decreto extra profitti così daremo più ossigeno alle aziende ma non diciamo cazzate che poi sono tutte cose che vanno a finire in niente perché poi sono cose che non puoi fare e quindi c'è è tutta pubblicità e tutto marketing no dicono ok abbiamo fatto questa cosa qui poi poi ci penseranno i tribunali però intanto tu la gente ti fai perdere il sonno e ti sputtani l'italia e questo non è accettabile non è accettabile da uno che come mario draghi che sembrava dover essere la persona incarnare la serietà la serietà passa anche attraverso queste scelte difficili le scelte di dire non posso perché mi fa comodo andare a far a prendere per il culo la gente perché non è non è giusto non è etico non si fa così bisogna c'è una persona e poi la pianto lì può anche sbagliare può anche comportarsi male può anche derogare da ciò che è legale per un episodio o due nella sua vita io non voglio mettere in croce nessuno che senza peccato scagli la prima presa per per l'amore però quando stiamo parlando di istituzioni bisogna che tutti noi cerchiamo di elevarci un attimo cioè bisogna cercare di mettere l'etica e le formalità hanno hanno la forma e sostanza in quei in in quei casi lì perché stiamo parlando di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato se non puoi credere più neanche nel tuo stato beh allora diventa un problema e una serie di governi di pagliacci hanno minato completamente la credibilità dell'italia perché purtroppo negli ultimi anni si è sempre guardato a ciò che conveniva fare oggi o domani rispetto a delle delle politiche di un pochino più lungo termine questo a me dispiace molto perché una volta che viene persa questa credibilità si fa molto fatica a recuperarla e noi ormai l'abbiamo persa da decenni però non è detto che per questo motivo qui doveva andare avanti a fare rincoglioniti i banditi possiamo anche ricominciare a imborcarci le maniche e fare le persone serie secondo me è la cosa migliore quindi chiuso questo sfogo qua politico ma qui non sto parlando di cioè non c'ho in mente un partito in politico in particolare fa tutti ridere cioè tutti e nessuno nel senso che all'interno di qualsiasi partito sono persone serie e persone meno serie io vorrei che proprio noi tutti ci facessimo un esame di coscienza ci cercassimo di volere un po più bene al nostro paese anche attraverso il fatto di non accettare certe certe cagate morale della favola se avete notizie su questa cosa perché questa notizia mi è arrivata da una persona della nostra con la nostra community che me l'ha detta prima poi arrivata anche a casa mia però me l'ha detta prima di quanto non l'avessi scoperto io stesso e questo perché molto spesso io ho tante relazioni ma c'è qualcuno che può darsi che abbia informazioni prima di me anzi è molto probabile quindi se avete qualche informazione sullo sviluppo se sapete cosa intenzione di fare il gse se ha intenzione di ricorrere al consiglio di stato oppure no se avete già avuto qualche sviluppo su questa su questa vicenda se avete qualche sviluppo legale non so di che tipo scrivetelo per favore perché può essere utile a tutti quelli che sono interessati a questo argomento e a me compreso quindi per il resto chiudo dicendo che per il momento abbiamo vinto 1 a 0 siamo 1 a 0 non abbiamo ancora vinto ma siamo 1 a 0 per noi ma quando dico noi dico me stesso ma anche la legalità credo perché la legalità è anche passa anche da queste cose qua quindi spero che le cose possano mettersi per il meglio fatemi sapere iscrivetevi al canale instagram per favore e commentate questo video ditemi cosa ne pensate ciao ragazzi buona giornata